Il microfono di settimana sport è Andrea Novelli, vice allenatore del Magda Azzurri. Oggi è un primo tempo sottotono, non positivo. Nella ripresa siete riusciti comunque a trovare il gol. Nonostante anche la superiorità numerica, forse potevate fare qualcosa di più. Il problema è stato l'approccio alla partita. Avete visto, abbiamo preso due gol su due palle inattive. In un fallo laterale abbiamo dormito e ci hanno preso di mezzo. Non si può marcare in questa maniera così lontani l'attaccante. Poi che attaccante? Abbiamo iniziato a giocare, secondo me un pochino dopo i due gol. Qualcosina abbiamo tentato di fare, però purtroppo l'approccio ci ha condizionato. I due gol presi subito ci hanno condizionato, la reazione però non c'è stata. Tra loro avevano pure la cattiveria che bisogna avere per vincere una partita e noi oggi questa cattiveria non ce l'avevamo. Poi voi siete comunque, di solito è una squadra molto aggressiva, quindi oggi è pesato soprattutto questo. Oggi è pesato il fatto che erano gli altri più aggressivi di nuovo. Questo è il problema e oggi non siamo, mi dispiace di dire, non siamo neanche entrati in campo. I due gol presi nei primi cinque minuti, lo testimonio. Perfetto, grazie mille.